Credo che questa sera abbiamo disputato una buona partita nonostante il risultato, abbiamo fatto due disattenzioni in zona difensiva nel primo tempo e ci sono costate i due gol e poi comunque la partita è stata equilibrata, abbiamo creato occasioni e non abbiamo fatto gol, quindi dobbiamo lavorare su questi aspetti del gioco. Questa sera anche in power play non siamo riusciti a fare gol e quindi merito all'avversario e stasera sono stati meglio di noi.